Ciao a tutti! Oggi siamo sul lago di Iseo e vedremo alcuni scorci di Sarnico e Paratico, queste due località così vicine tra di loro ma divise dal fiume Olio. Quindi passiamo alla visione del video, ma prima ricordatevi di iscrivervi al nostro canale, di mettere un like e un commento qui sotto. Ciao e buona visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!